Come avevo annunciato qualche tempo fa in un post, è molto probabile che io giochi alla nuova espansione di World of Warcraft che uscirà il 27 agosto e ho un dramma terribile che devo risolvere, cioè devo decidere qual è il primo personaggio col quale gioco. Poi alla fine io me li giocherò un po' tutti, come faccio sempre nel tempo libero, ma volevo il vostro aiuto per decidere quale, anche a livello estetico, mi piace di più perché alla fine vorrei fare delle live così, alla buona, alla sera, nel quale gioco questa storia. Allora tenete conto di una cosa, io a World of Warcraft ho giocato per molti anni, ho sempre giocato in un modo molto anomalo, ho sempre giocato da sola perché a me interessa solo la storia, mi piace la lore del gioco, mi piace l'ambientazione e tutto il resto. A me di andare a fare ride, dungeon, trovare l'equipaggiamento migliore, non me ne ho mai fregato niente. Non uso add-on, a parte un paio, uno per farmi le foto e l'altro per vedere meglio i fumetti quando ti danno le quest. Proprio a livello tecnico non potete imparare niente da me. L'unica cosa che conosco un pochino è la storia, anche perché negli anni mi sono comprata anche un po' dei libri che sono usciti, non i romanzi, però quelli che sono tipo enciclopedie di tutto quello che è successo, mi piacciono molto, mi piacciono le illustrazioni, per cui ne ho un po'. E ogni tanto qualcosina ho letto, per cui un pochino, un pochino l'ambiente dove siamo, magari intanto che giochiamo posso spiegarvi che cos'è. Vi domanderete perché giochi da sola a un gioco che è un morbo, che dovrebbe essere quindi un gioco giocato con gli altri, perché io ho i miei tempi, a me piace star lì, guardare il paesaggio, raccogliere i fiorellini, spesso vengo interrotta durante il gioco da cose che succedono in casa, per cui per me è impossibile giocare con altri. Non ho questa necessità, ripeto, di trovare le cose più potenti, più belle, più fighe del gioco, per cui non ho neanche la necessità di giocare con gli altri, però mi piace allo stesso tempo stare in un mondo che è vivo ed è vivo perché ci sono gli altri giocatori. A me piace mettermi lì nelle capitali delle due fazioni e guardare ogni tanto la gente cosa fa, come sono vestiti, ed è una cosa che mi fa piacere, come quando esco e vado a fare la spesa e non ho bisogno di salutare tutti quelli che ci sono attorno a me o di chiedere aiuto, senti, devo andare a fare la spesa, andiamo in tre, così ognuno porta un sacchetto. Però mi piace comunque vivere in un paese dove c'è della gente e non vivo da sola su un monte. Allo stesso modo mi piace vivere in un mondo che è vivo, però facendomi gli affari miei. Allora, per me è una cosa, per iniziare le espansioni bisogna avere un personaggio a livello 70, io qualcuno ce l'ho già, qualcuno mi mancano pochi livelli, insomma in questi giorni li posso fare. E vi dico anche un'altra cosa, metterò un sondaggio nella parte, diciamo, della community, dove potete votare qual è il personaggio che voi preferite. Dopo ve li faccio vedere uno a uno per bene. Tenete conto che io sono un po' fissata con queste cose, cioè quando creo un personaggio è come se mi creassi non la sua storia, però deve avere tutto un senso. Per cui quando lo creo gli scelgo anche che mount deve usare, che animaletto deve avere come pet che gli fa compagnia, gli scelgo un aspetto generale che deve avere come estetica che mi piace. Altra cosa, in generale mi piacciono di più le razze dell'Orda, le trovo più interessanti, più carine, ma ho molti più personaggi dell'Alleanza perché mi piacciono molto di più le zone dell'Alleanza. Io tutte le volte che entro a Orgrimmar mi viene da piangere perché per me è orribile, mentre a Roccavento mi esalto. Fra l'altro vi dico un'altra cosa, la classe più bella di questo gioco, secondo me, per come la gioco io, è la strega o il Warlock e in realtà ne avrei anche una che è a livello 64. Però, praticamente, non so se lo sapete, nell'espansione precedente avevano inserito questa nuova razza, razza, vediamo se la ritrovo, dov'è, 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 eccola qua, che erano i Dracteer, che erano questi draghi qua, che a me esteticamente piacevano molto nella loro versione drago, nella versione umana mi fanno schifo, ma non mi piaceva assolutamente la loro classe, cioè, praticamente, questo drago poteva solo essere un evocatore. Io ho provato a giocarlo, non mi piace. Però ho sentito dire che prossimamente permetteranno di creare dei Dracteer di altre classi e quello che mi piacerebbe fare è rifarmi un Warlock, una strega, Dracteer, per cui la strega, anche se secondo me è, per come gioco io, la classe più bella, l'ho lasciata fuori perché se poi vado a farmene un altro, insomma, non mi piace neanche giocare 800 personaggi tutti dalla stessa classe. Allora, vediamo un po'. I quattro personaggi che vi propongo sono Una cacciatrice troll di nome Zangret Un cavaliere della morte non morta di nome Ossilia Una cacciatrice di demoni elfa di nome, anzi, elfa della notte, Ci sono 800 milioni di elfi adesso in un uovo bisogna specificare Di nome Enarla E Una maga, nana, di nome Iselinda Allora, cominciamo con la prima Allora, la prima, come vi dicevo, è questa troll cacciatrice Il cacciatore, diciamo, in questo gioco ha la particolarità che ha sempre un pet che l'aiuta E il mio l'ho chiamato gamberino Poi puoi scegliere un sacco di bestie diverse Io ho preso questo scorpione perché mi piaceva Ho scelto come specializzazione per chi conosce il gioco sopravvivenza Che è, diciamo, la specializzazione in cui invece che combattere con gli archi, con i fucili Combatti con delle lance Perché secondo me fa molto, fa molto troll combattere con la lancia E diciamo che le cavalcature che avrei scelto per lei sono Come cavalcatura volante questo pesciozzo Che mi piace molto, mi piacciono i colori Poi ci sta un cacciatore Si dedica alla pesca, quelle cose lì Come cavalcatura terrestre Speriamo che non mi attacchino perché vi spiego Hanno anche appena cambiato tutte le classi, tutti i talenti Non so più assolutamente cosa fare Come cavalcatura terrestre questo bellissimo Scorpione meccanico Ok E come animaletto di compagnia Perché i pet che combattono Ce li ha il cacciatore, ce li ha la strega Però qualsiasi classe può avere il personaggino che gli fa compagnia E ho questo cosino qua Tipo voodoo Che mi piace un sacco Ok E questo è uno Passiamo al prossimo Il secondo personaggio è questa fantastica maga Che vi dico subito fra i quattro E quello che mi piace meno Mi piace meno perché Io sono incapace di giocare E per me il mago è difficile da giocare Per cui Non lo so Fa le magie Fa le... Questa qua È specializzata nella magia di ghiaccio E fa tutte le cose ghiacciate E di più non so dirvi perché Perché veramente sono poco capace di usarla E spero che non scegliate questo Allora però va bene Ok Se devo imparare Imparerò Vi domanderete Come hai fatto a portarlo a livello 70 Se non lo so usare Perché c'era questo evento Pandaria Remix Dove praticamente potevi Expare molto velocemente dei personaggi Fra l'altro questa qua L'avevo expata in un'altra Specializzazione che era Arcano Che mi ha fatto schifo Per cui ho detto Vabbè Se proprio lo devo giocarlo Lo giocherò Come mago del gelo E... Vabbè Lo so che mi farete un dispetto Sceglierte lei Mount volante Il piccione qua Che fa questi rumorini tipo ghiaccio Che mi pare Adatta no? Sì Vediamo se vola Voli Sì voli Ok Mount terrestre Il lupozzo dell'alleanza Che non fa mai male Mi piace E come animaletto di compagnia Ha Un gatto bianco Ok Per cui se mi volete male Votate Iselinda la maga Passiamo al prossimo Terzo personaggio Ossilia Cavaliere della morte I cavalieri della morte Erano diciamo Tutti quei guerrieri Che il Il re delicio Ovvero Arthas Quando era diventato cattivo Aveva riportato in vita Per servirle E poi si erano Questi Ribellati Al suo dominio Diciamo E' un caso Che lei sia anche Una non morta Perché Tutte le razze Penso Possono Forse A parte i drag tier Che vi dicevo prima Possono diventare Cavalieri della morte Molto carino Molto iconico Io Questo L'ho usato Nella versione Tank Perché Ripeto Per come gioco io Mi piace Farmi gli affari miei E i tank Di solito Sono molto resistenti Per le cose Che faccio io Fanno anche Abbastanza danno Per cui Diciamo che Quando gioco da sola La versione tank E' la mia preferita Un po' noiosello Il tank è un po' noioso Da usare Per cui Potrei Se Votate questo Magari Cercare di imparare Anche se Non ve lo assicuro Che io sia in grado Di farlo Gelo No Perché C'è già la maga Del gelo Potrei imparare Forse La specializzazione Impietata Quella Diciamo Che Rissuscita I ghoul I cadaverini Quelle cose lì E' Difficilotta Da giocare Ma Ripeto Per le cose Che faccio io Posso anche giocare male Che va bene Lo stesso Allora Vediamo le mount Che ho scelto Per Ossilia Mount volante Il pipistrello Di sepulcra Questo lo davano Durante Il pre-evento Boh Di un po' Di espansioni Fa Molto carino Molto Molto carino Un po' Ingombrante Ma Sempre bello Ah Quello che dicevo Prima delle zone Dell'orda Che non mi piacciono Vale per quasi Tutte le zone A parte la zona Dei non morti Che è bellissima Che è questa qua Che vedete adesso Poi Mount Terrestri Questa qua Che va A super culo Mi hanno droppato Durante un evento Nell'espansione Shadowland Penso che sia Abbastanza Rara Ma come vi ho detto Io non uso le mount Perché sono rare O non le uso Se Centrano Con quel personaggio E secondo me Questa manina Con i teschietti Centra con Ossilia E come Pet di compagnia A Putrizio Che è questo Cosino qua Che tra l'altro Ha la caratteristica Molto carina Che quando tu sali Su una mount Ce l'ha anche lui Molto bellino Allora Esteticamente Fra i quattro personaggi Che vi presento E anche come storia Sicuramente Il più bello Al momento Vi dico Non il più divertente Da giocare Comunque Vedete voi Ultimo personaggio E Narla La cacciatrice Di demoni Allora I cacciatori di demoni Sono i Seguaci Di Illidan Diciamo Cioè quelli che Avevano rinunciato A tutto Per combattere La legione infocata Il problema è che La legione infocata L'hanno sconfitta Due espansioni fa E sti poveretti Sono un po' in giro Senza motivo E sono anche Fa un po' emo Il cacciatore di demoni Però vi devo dire una cosa Per come gioco io Dopo la strega È il personaggio Che Magari non il più divertente Anche perché è molto semplice Non ha tantissime skill Ma deve essere uno dei motivi Per cui mi piace In più In più quando mettono Le espansioni Le cose Non lo cambiano Mai molto Che tutti si lamentano Ma accidenti Ma a me Non mi ha cambiato niente Tutte le altre classi Sono da rifare Che per me È un dramma Perché devo rimparare Tutte le volte Questo qua Rimane sempre Uguale a se stesso Che per me È un bene Mi piace molto Perché È molto Facile muoversi Quando si va in giro Si esplora Soprattutto perché Il cacciatore di demoni Insomma che ha ingoiato Il cuore dei demoni Ed è Si è strappato Gli occhi poi È in parte Demone anche lui E ha questa cosa Molto carina Che Praticamente Può planare E Per come Ripeto Per come piace giocare a me Che mi piace andare in giro Esplorare Fare Lo trovo Molto Comodo Saltelle in giro Forse non è La classe più entusiasmante È quella che però io In tutte le espansioni Mi porto sempre dietro Magari non è la mia preferita Ma è l'unica classe Veramente Che Da quando c'è stato L'ho sempre Livellato Perché Alla fine È quello con il quale Mi diverto di più Ad andare in giro Ad esplorare Allora Mount del cacciatore di demoni Lei è un elfa della notte Perché Cacciatore di demoni Possono essere solo Gli elfi della notte O Se vuoi farli Dell'alleanza O gli elfi del sangue Se vuoi farli Nell'orda Per cui Direi che c'è questa Mount volante Che va benissimo Che c'è tutti i simboli Elfici La lunina Le cosine Ed è Particolare Perché cammina Però Vola Anche E ci sono delle Cavalcature Diciamo che sono solo Terrestri Ce ne sono altre Ok Con 100 vigore Nel volo draconico Ce ne sono altre Che invece Gli hanno dato la possibilità Anche di Volare E questa Mi sembra molto Adatta Per un elfa Ok Cavalcatura terrestre Che non può volare Questo lupozzo Mi sembra adatto Come colori Mi piace Fra l'altro Questo cacciatore di demoni Ho cercato di farlo Meno demoniaco Possibili In realtà Può essere Se conoscete Illidan Con le corna Con tutte le robe I tatuaggi colorati Insomma Potete personalizzarli Abbastanza I personaggi Diciamo che se non fosse per la benda Questa potrebbe essere Un elfa normale Che si fa gli affari suoi Una guerriera qualsiasi E alla fine Il pet Il pet O il L'amichetta Che si porta A pressa Ho preso La sentinella Di riva fosca Che è Vabbè Un gufo Ovviamente Molto legato Nel mondo Di world of warcraft La figura Del gufo Agli elfi Quindi Ditemi voi Chi preferite Farà Zangret La troll Cacciatrice Con il suo compagno Scorpione Ma possiamo anche cambiarlo Quello se non vi piace Iselinda La maga del ghiaccio E conto su di voi Perché non la scegliate Perché mi potreste vedere In grave difficoltà Più del solito Ossilia Il cavaliere della morte O La cacciatrice Di demoni Un po' Emo Io vi ringrazio molto Per avermi seguita E ci vediamo presto Ciao a tutti Ah E ricordatevi di andare a votare Nel sondaggio O nella community Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti